Allora, ciao a tutti, è arrivato e disponibile una nuova build per i famosi cumulative update di Windows 11 in realtà ci ha lasciato a bocca asciutta per un pochino di tempo, lo state vedendo in questo momento si sta installando ora sul mio pc tra l'altro, ripeto, ci ha lasciato con il nulla per un po' e nel giro di pochissimo ne arrivano addirittura due ora è un po' imbarazzante quello che Microsoft rilascia per i cumulative update ricordiamo sempre comunque che spesso e volentieri non hanno una funzione specifica cioè non è che devono aggiungere qualcosa, spesso devono correggere semplicemente determinati problemi ciò che comunque questo cumulative update risolve o pare risolvere tra l'altro una persona nello specifico mi ha segnalato dei problemi con alcune app che non c'entrano con le app di cui qualche giorno fa vi ho parlato come per esempio lo strumento di cattura, la chat o comunque strumenti base all'interno del sistema operativo per i quali sappiamo ormai esserci stato un problema legato a dei certificati un certificato scaduto alla fine di ottobre quindi una volta scaduto questo certificato non funzionavano più per chi li avesse avuti ovviamente era legato più che altro a Windows S quindi un po' particolare ma tolto tutto questo comunque ci sono persone che ancora hanno dei problemi nell'avviare queste app io molto banalmente ho pensato effettivamente ci potesse essere un problema simile di certificati magari che vengono presentati involontariamente da queste software house che Microsoft li ha fatti scadere a prescindere tutti quanti ad ottobre delle cose del genere non lo so la mia era un'intuizione un po' scema ma questo io ho pensato detto ciò ovviamente non aveva molto senso quello che però Microsoft ha ufficialmente rilasciato in questo cumulative update dice che in alcuni casi con alcune app ci sono dei risultati imprevisti dicono loro per il rendering di alcuni elementi dell'interfaccia utente o durante il disegno all'interno dell'app quindi chi utilizza GDI Plus oppure con strumenti che usano il touch quindi che ne so i pollici risoluzione elevate ridimensionamento cose di questo tipo quindi penna, touch touch con dita touch con elementi grafici eccetera 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 questa cosa qua potrebbe avere cioè potrebbero essersi stati problemi che con questo cumulative update è stato risolto probabilmente ce ne sono tante altre di cose che sono state risolte questo è quanto Microsoft ha rilasciato ufficialmente e vedremo più che altro visto che e a me fa molto piacere mi informate nel momento in cui ci sono effettivamente dei problemi di app che non stanno andando con il vostro Windows 11 fatemi sapere se con esso magari riuscite ad aggiornare pure quello vediamo tra l'altro che c'è anche lo strumento di rimozione del malware lo strumento di rimozione malware non riusciva a venirmi questa formula grammaticale di Windows X64 semplicemente sono strumenti che vanno ad aggiungersi insieme a Windows Defender per la sicurezza generale tra l'altro a questo proposito ricordo che e apro e chiudo questa parentesi Windows Defender è un ottimo antivirus so che a voi magari questa cosa vi risulta quasi una barzelletta ma non lo è assolutamente è considerato uno dei migliori antivirus in generale in assoluto spessissimo la gente paga per antivirus che oggi su Windows 10 e Windows 11 sono in realtà ottimi già così come funzionano quindi pagare a volte per degli antivirus io ho usato per anni Bit Defender e l'ho considerato uno dei migliori in assoluto lato aziendale ci sono tantissimi end point molto fatti bene ma lato aziendale ci sono delle logiche completamente diverse c'è una logica centralizzata e di diffusione anche dell'antivirus l'uso del controllo del problema lato ripeto centralizzato quindi lato aziendale deve essere organizzato in questo modo e sempre lato end point Windows Defender arriva anche nella versione Office 365 quindi se vi può interessare questo tipo di soluzione sappiate che sta per arrivare anche sotto questo profilo ma nell'Office 365 in cui è incluso è su un pacchetto un po' più diciamo un po' più caro ma al di là di quello e chiudo dicevo Windows Defender per i vostri PC è uno strumento ottimo perché comunque oggi abbiamo browser ipersicuri abbiamo navigazione ipersicura poi ovvio che uno che si fa passare la chiavetta eccetera può avere dei problemi ma vi posso assicurare che è tutto ben controllato ben funzionante e ben fatto bene spero che con questo aggiornamento vi si possano essersi risolti alcuni dei problemi che avevate intanto fatelo scaricatelo aggiornatelo come dico sempre e mi fa molto piacere se doveste farlo con me aggiornatemi ecco qua vedete che ho detto a questa specifica persona della soluzione che speriamo possa essere ad hoc per lui e gli arriverà in diretta mentre leggerà o guarderà questo video che è arrivato il suo commento quindi abbiamo fatto un po' di inception e speriamo soprattutto che questa cosa si risolva quindi tornando a questo a questo discorso scrivetemi quando avete dei problemi vediamo io non è che so tutto ovviamente a volte mi informo a volte non ho soluzione purtroppo a volte devo dirvi questo ma iniziamo a creare questa sorta al di là di relazione sulle problematiche ma anche di vediamo se questa cosa risolve oppure a volte mi capita di leggere soluzioni specifiche di problemi che magari scopro che avevate anche voi e vi comunico celermente che questa cosa è stata risolta quindi come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale per poter commentare oppure come dico sempre il sistema antispam creato in automatico da google vi taglia i commenti e questo mi dispiace perché li vedo nelle anteprime e poi volano via io non riesco nemmeno a contattarvi per questo quindi scrivetevi iscrivetevi al canale e poi commentate se volete condividere le vostre opinioni io cerco di rispondere come sempre a tutti vi auguro una buonissima giornata come sempre al prossimo video e ciao